Un saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Damiano Fedeli. In A1, in direzione Roma, ci sono 5 km di coda per traffico congestionato fra Aglio e Calenzano. 2 km di coda nel tratto della variante di Valico fra Badia e Aglio. Ancora in direzione Roma, rallentamenti fra Firenze Sud e Incisa Reggello. In direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso fra Chiusi e Incisa Reggello. Code a tratti per traffico intenso fra Firenze Sud e la variante di Valico. In A12, in direzione Genova, ci sono code a tratti da Livorno fino a Sestri, Levante e in Liguria. In A12, in direzione Rosignano, code a tratti per traffico intenso fra Colle Salvetti e Rosignano, barriera alla quale c'è coda. Code a tratti per traffico intenso anche sulla statale Aurelia, in direzione Livorno, fra San Vincenzo e Rosignano. In Fipili, per lavori, rallentamenti fra Ginestra, Fiorentina e Lastra, Signa, in direzione Firenze. Ed è tutto, buon viaggio. Ed è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.